Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, ci sono rallentamenti per perdita di carico tra Calenzano e BV1 Variante in direzione di Bologna, a regolare il traffico altrove. Sulla SR 429 di Valdelsa, per lavori di risanamento del piano viabile, senso unico alternato in orario 7.19, al chilometro 67.3 per 500 metri circa, ci troviamo tra Empoli e Castel Fiorentino. Voltiamo pagina per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tramvia, segnaliamo che per lavori in piazza della Costituzione, fino al 15 settembre, resta chiuso il ponte sul Mugnone, tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!